Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Pisa a code tra Firenze Ovest e Prato Est, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pistoia e Montecatini e 4 km di coda per un incidente tra Alto Passo e Capannori. In direzione Firenze per questo incidente rallentamenti per Curiosi tra Lucca Est e Alto Passo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!